È un anno importante dove tanti progetti hanno preso corpo e tanti obiettivi sono in via di raggiungimento. Penso alle infrastrutture, penso alla programmazione europea, a cui avevamo lavorato nei due anni precedenti e quest'anno è partita con oltre mezzo miliardo di bandi erogati. Penso alle potenzialità che abbiamo messo nel cercare di velocizzare la ricostruzione e le risposte avvenute per l'alluvione del 2022 e tante altre sfide. Penso all'aeroporto, alla continuità territoriale, penso all'interporto, penso a quelli che sono stati anche i numeri del turismo che denotano sicuramente una tenuta e soprattutto un incremento del turismo straniero e poi non posso non guardare a quelli che sono i dati sull'occupazione che determinano un elemento positivo, concreto su cui basare anche le politiche del futuro. Io credo che la prospettiva è quella di continuare su questa deriva, cioè quella di dare pieno compimento alle riforme che abbiamo approvato. La riforma delle aziende sanitarie, seguita poi dalla riforma del piano soggio sanitario che si dovrà concretizzare con gli atti aziendali che sono l'ultimo passo per far sì che il lavoro svolto produca gli effetti sperati sulle liste d'attesa, sul potenziamento della sanità del territorio, sull'erogazione dei servizi costruita sul fabbisogno. E poi dall'altra parte la legge del governo del territorio, l'abbiamo approvata, abbiamo detto che la revisioneremo nel momento in cui andremo ad approvare il piano basaggistico, tutti leggi ed atti che erano attesi da decenni nella nostra regione, come le risposte, penso alla Galleria della Quinza, alla Salaria, alla Paese di Montana, sulle infrastrutture che erano attese da anni, l'ultimo miglio ad Ancona, sono risposte concrete a ritardi decennali.